Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart in studio Agnese Fedeli. Eccoci con le ultime notizie sul traffico e mobilità in Toscana. Cominciamo dalla 11, rallentamenti per perdita di carico in direzione Firenze tra Prato Ovest e Prato Est. In FIPD possibili disagi per presenza di personale su strada tra Ponte della Ovest e Semminiato ancora una volta verso il capoluogo. Regolare il traffico altrove. Siamo alle strade statali sul raccordo Siena-Firenze per problemi tecnici sul cantiere. Troviamo in direzione di Siena uscita obbligatoria a San Casciano Nord con rientro a San Casciano Sud. In direzione Firenze uscita obbligatoria a San Casciano Sud e rientro a San Casciano Nord. Siamo al traffico ferroviario. Trenitalia informa che per un inconveniente è un treno di altra impresa ferroviaria all'altezza di Firenze-Campo di Marte. Il treno 18831 Firenze-Campo di Marte-Monte Varchi è cancellato. I viaggiatori utilizzano il treno 18755. Cancellazione inoltre per ulteriori due treni regionali. Tutti i dettagli sui nostri canali social. Buonasera, Sintoscana Info è un servizio in collaborazione con la regione Toscana, città metropolitana di Firenze e comune di Firenze. Per ora è tutto. Buon viaggio.